Hi friends, Gianni Bravo is back. Gianni Bravo è tornato ancora con Eurovision e questa volta con la Grecia abbiamo appena visto pubblicato Marina Satti con la sua Zari ho dato una scorsa alla traduzione del testo Zari come dado e quindi andremo a guardare questo questo brano questo nuovo video e poi faremo come sempre le nostre considerazioni sottotitolo per tutti chi segue il canale lo sa e vi ringrazio come sempre per il supporto al canale e quindi al di là del tutto salutiamo tutti gli amici e andiamo a guardare questo brano della Grecia per la Eurovision 2024 e quindi a guardare questo brano della Grecia per la Grecia per la Grecia per la Grecia Grazie per la Grecia a canta in grego bellissima questa cosa ecco è Questa è l' сейчас Julian Knokol Possessi non fare la voglia Questa è la usudo Questa è la persona Ricasse'a le miele nella tur trainer Ke se non au plus f幼i e che vuole Mettà Ke se non au plus f самый risiduto Mettà Negli unità Nём nos fai suburban E che ve non fate Negli unità Nessà Oppure Di unità Interessante questo mix tra folk e urban, molto molto carino. Non mi perdere, mi s' vlogger, s' spirito, non mi perdere. Quando mi perdere, mi perdere, mi perdere. Solo perdere, se sei a lui. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Io trovo... intanto faccio i complimenti veramente alla Grecia, intanto perché è tornata con la sua lingua a cantare all'Eurovision e questa è una cosa che io ripeto in tanti dei miei video. E quindi che ogni nazione presenti nella propria lingua i brani all'Eurovision è una cosa che io trovo assolutamente bellissima. Questa artista, Marina Satti, al di là del brano che non ha particolari difficoltà nel canto, ma comunque si sente che l'artista ha comunque dalla sua anche una certa padronanza. Il brano lo trovo assolutamente divertentissimo e questo suo modo anche di raccontare la Grecia l'ho trovato divertentissimo. E mi piace proprio vedere come i nuovi linguaggi della musica, quando riescono a mixare tradizione e modernità, regalano comunque qualche cosa di assolutamente piacevole. E anche a una generazione come la mia che sta scoprendo nella musica anche questi linguaggi che in qualche maniera noi cerchiamo anche di comprenderne, anche la forza e perché le giovanissime generazioni abbiano e amino così tanto questo linguaggio musicale. Io faccio i complimenti alla Grecia proprio per questa scelta che condivido e che apprezzo. Quindi voglio dire che probabilmente questa Eurovision, l'ho visto nel mio piccolo viaggio che sto facendo attraverso la scoperta di questi giovani artisti da tutta Europa e quindi devo dire che la Grecia questa volta mi ha piacevolmente sorpreso. Concludo come sempre, faccio i complimenti comunque a Marina Satti e la sua Azzari, anche a questo gioco, anche ho visto il testo, quindi questa vita che attraverso queste, non so se delusioni d'amore, la riscopre come un lancio di dati in cui il numero che uscirà non si sa bene qual è. Quindi niente, concludo dicendo che questo gioco urban, folk, pop, mi piace molto e quindi un saluto e complimenti anche alla Grecia. Vedremo quello che accadrà. Enjoy life, enjoy music and be happy. Ciao! Ciao!